Un buon inizio per i saldi invernali nella città del Torrazzo, con i cremonesi che hanno risposto bene agli abbassamenti di prezzo nei negozi del centro storico. I saldi sono partiti giovedì molto bene, siamo stati molto soddisfatti, abbiamo avuto anche un weekend positivo, sabato la città era bella piena, sia a Cremona che in tutte le città di provincia che ci rappresentano, e abbiamo fiducia per i prossimi giorni. Una piccola flessione però nella giornata di domenica, complice il tempo e la pioggia a scoraggiare le uscite dei cremonesi. Abbiamo sofferto ovviamente domenica, mentre i centri commerciali un po' per il tempo erano strapieni, i centri storici hanno sofferto, però insomma più o meno abbiamo sentito i colleghi hanno fatto uguale o in diversi sono riusciti a fare di più rispetto all'anno scorso. C'è comunque ancora tempo per far acquisti sfruttando le occasioni, infatti i saldi iniziati in Lombardia giovedì 5 gennaio proseguiranno fino a domenica 5 marzo.